Allora ragazzi, per quelli che hanno visto lo scorso video, quello là di addio RickiCraft, ma... Beh, mi hanno chiesto ma perché la cancelli, no, non lo fare, che sta succedendo? Ragazzi, calmi, non mi ha praticamente solo registrato la voce, vi dirò tutto in questo video. Praticamente, devo dire che purtroppo la RickiCraft finirà perché comunque in quel mondo non mi trovavo molto bene. Però, se questo video arriva a 20 like, farò una nuova serie vanilla, molto, ma molto più bella. Perché farò cose pace, raga, veramente pace, ne varrà la pena. Ovviamente dico che il mondo non lo cancellerò assolutamente per questo fatto, state tranquilli. Però dico, se quel video raggiunge i 20 like, io porto una nuova serie. Quindi, raga, state tranquilli, non cancellerò Minecraft, c'è ancora. Soltanto che, non lo so, cioè, non mi sta andando più di portare quella serie, quindi, appunto, non la farò più. Però potremmo fare una nuova serie dove cercherò subito... Cioè, non ci starò 20 episodi per farmi in diamante, nel primo episodio volevo fare anche le armi in ferro. Quindi, raga, ve lo dico, 20 like, vi prometto, faccio una nuova serie. E, purtroppo... Dovete scrivere un hashtag nei commenti. Hashtag... Addio Ricky Kraft